You make me feel, ma allora c'è il Perse! Perse arriva, devo fare la curva! Corri, corri, Anto! Daniele Persegani, oggi ci fa un grande primo piatto pasquale dopo la... Reclama! Eccoci qua di nuovo in diretta con noi, la nostra finestra sul bosco con Daniele Persegani, prima di iniziare, Dani, vorrei farti vedere Carla da Torino che ha rifatto i tuoi filetti di maiale con olive e patate, guarda che belli! Che belli, brava! Ma insomma rifanno tutte le nostre ricette, sono molto contenta! Ma anche gli gnocchi e le carote hanno avuto un gran successo! Perché le cose, le ricette semplici, che uno gli viene un'idea e la ricopie, poi magari le copie una parte, tutta! Ma certo, ma certo! E oggi che cosa facciamo copiare alle persone a casa? Oggi facciamo copiare delle caramelle alla raparossa con anche lo speck, quindi abbiamo una cosa un po'... Tutto rosso! Tutto rosso! Oggi è la sagra proprio dell'antociano! Quindi abbiamo gli ingredienti che sono la farina e i tuorli, facciamo l'impasto solo con i tuorli oggi, poi abbiamo la ricotta di pecora, la barbabietola rossa, il formaggio grattugiato, un goccino di aceto per sfumare la barbabietola, poi abbiamo la salsa che ha l'estratto della barbabietola, la panna, lo scalogno, il formaggio grattugiato e lo speck. Che ti ha portato la barbara, Benigris? Esatto! Cosa sta succedendo, cosa c'è Alfio? Eh? Ma cosa c'ha la terremare? Cosa c'ha? Eh no! Va bene! Antonella, Antonella, mi senti? No, chi è che gli ha dato il regalo? No, no! I giochini! I giochini! I giochini! Guarda, vabbè! Volevo dirti se potete assaggiarli dopo, la roba che fa... Vediamo come ti comporti durante! Se te lo meriti! Se te lo meriti! Ma te hai fatto un concorso? Questa trasmissione ci sta sfuggendo di mano! Hai fatto un concorso per prenderli, no? Perché? Non lo so, così io vado per istinto, capito? E quindi per istinto la compagnia di giro che è venuta fuori è questa qua. Comunque io ho fatto una selezione lunghissima. Sono stato un mese con gioia là. Mi guardava con degli occhi così. Con lei sì che tu tiri dritto, non con me. Perché qua bisogna ristabilire la verità. Che io sono quella più tranquilla di tutti. Qua i veri cattivi sono altri, eh? Eh, eh, lo sappiamo che sono quei cattivi. Esatto. Lo sappiamo. Io lo faccio segni, ma... Facciamo così, intanto io ho tagliato lo speck. Senti, perché c'è sui guanti? Sei tagliato? No, no, non mi sono tagliato, è per la barbabietola. No, io invece stamattina c'ho il cerotto. No, scuola, mi dico, ma che c'è il cerotto? Mi sono tagliata, prendo la scatola del dentifricio. Secondo te è una roba normale? Col dentifricio? Col dentifricio. Sì, cioè avete presente il dentifricio che sta dentro nelle confezioni? Sì, sì. Ho aperto il cartone, era, sai, un po' di quelli così. Non riuscivo a tirarlo, tira, tira, tira col dito. Io ho queste due dita che non so perché sono sempre martoriata. L'identifricio al tonno? Eh? Hai il dentifricio al tonno? Hai il dentifricio al tonno? Perché? No. La scatoletta. La scatoletta. Ah, la scatoletta. Ho capito, la scatoletta. Anche con quella, però. Eh, vabbè, capita, ci sono dei piccoli incidenti domestici. Ma lo speck lo devi mettere su a... Sì, lo metto su dopo, perché prima devo fare un'altra cosa, Anto. Devo spadellare la rapa rossa e la devo... Senti, la barbabietola rossa, la rapa rossa, si trova già pronta dappertutto. Sì, quelle a vapore, quelle a vapore che... Sai che me la faceva sempre la mia mamma, da qua non c'è più la mia mamma, non mangio più la barbabietola rossa. È vero? Fa molto bene perché contiene, oltre agli antociani, i flavonoidi, molti minerali e sostanze che rivitalizzano i globuli rossi, per cui molto adatto a soggetti che soffrono anche di anemia. Vedi? Ecco perché tu fai tutto rosso. Ecco perché per essere sempre su di giri. È così, vedi? Poi il rosso è un grande... Forse è il colore della Pasqua per tutto il mondo ortodosso. Le uova in Grecia, da questa parte d'Europa, sono rosse perché c'è la simbologia del sangue di Cristo, ma anche della rinascita nell'uovo. Pensa a te. Quindi è proprio il colore della Pasqua. E quindi il rosso Pasquale è rosso, vedi? Quindi, allora, ti faccio fare il ripieno a te, Anto, che così almeno io comincio a tirare la pasta. Prendo, questa è una ricotta. Questa qua è la ricotta di pecora. Ci mettiamo dentro il formaggio grattugiato, un pochino di sale, un pochino di pepe, che abbiamo messo anche nella barbabietola. Che sto? Io non so perché metto grembiule di lipo e vengo di qua. Che sto? Eh, vedi? Ma è così, sai. La barbabietola la stiamo praticamente spadellando con un goccino di olio e di sale e di pepe. Adesso che praticamente è soffritta un pochino, ci vado a mettere dentro un goccino di aceto, proprio così, aceto di vino rosso. Eh, meglio, perché barbabietola rossa, aceto di vino rosso. Aceto rosso, esatto. Gli diamo anche quella sorta di... Lo schnaus. Esatto, brava Antonella, proprio quello lì. Lo schnaus dice tutto, dai. C'è dentro tutto. Quando uno dice schnaus, c'è già detto tutto. Esatto. È come l'umami, lo schnaus. Esatto. È la stessa cosa. È vero o no, Lorenzo? Forse può essere il sinonimo italiano di umami, per esempio lo schnaus. Può essere, l'abbiamo inventato noi. Cognato è una cosa nuova. Eccolo lì. Lo schnaus. Quindi questo qua è il ripieno. Intanto prendiamo lo scalogno, lo trito e lo metto in un altro padellino con la panna, perché devo ridurre la panna, quindi questa qua, perché dobbiamo fare la salsa. Allora, qui ho messo ricotta, le tue barbabietola, aromatizzata al vino rosso. Esatto. Il formaggio grattugiato, sale, pepe. Basta. E basta. Invece adesso facciamo lo scalogno, lo tritiamo così. che a me piace da matti lo scalogno tritato, perché è quello che insomma dà il sapore anche, che non è aglio, non è cipolla. Lo mettiamo... Non è ma è tutto. Non è esatto. È come Balto. Eh? È come Balto. Ti ricordi Balto? No. Non è canne, non è al lupo. Sa soltanto ciò che non è. Ah, il cartone animato. Ma sai, io quando bambina vedevo... Era una delle mie citazioni preferite. Lo so, ma voi maschi, vedevate degli altri cartoni animati, secondo me, rispetto a noi femmine. Beh, no, dai. Li guardavamo più o meno uguali. Allora, nella panna. Sailor Moon. No, no. Cioè, Pollon. Pollon era la mia preferita, te lo dico. E poi, quella roba bellissima. Esatto, esatto, proprio quella. Insieme alla panna e allo scalogno andiamo a mettere anche l'estratto della barbabietola. L'estratto della barbabietola. Quindi andiamo a colorare. Sai gli antociani che ha dentro l'estratto della barbabietola? Qua gli antociani fa la sagra. Fa la sagra. La sagra degli antociani. Quindi scalogno, panna e l'estratto della barbabietola. Esatto, un pochino di sale. Deve restringersi. Si deve restringere un pochino. Quando si è ristretto e lo scalogno è cotto dentro nella panna andiamo ad aggiungere il formaggio grattugiato. Intanto tiro la pasta. Ce l'ho già pronta perché questa qua è una pasta che bisogna impastare ovviamente con un pochino di anticipo. L'abbiamo messa qua con la pellicola. La tiro a mattarello che così la facciamo una... Senti, eventualmente per tirare la salsa quando è liquida c'è un... Cioè, a parte farla ridurre... Allora, se non hai tempo di farla ridurre puoi mettere un pochino di fecola sciolta nell'acqua fredda. ce la metti dentro e si riduce velocemente. Mi sa che mi stanno scrivendo un non-complimento. Temo di sì. Cioè, perché qualcuno mi stia scrivendo... Certo che quando Lorenzo guardava i cartoni animati io cosa facevo? Ero... Non ho capito cosa ho detto. Eri in viaggio di nozze. Eri in viaggio di nozze. Qua le nozze? Le prime, le seconde. La prova. Guarda, tu fa una roba. Che carini che sono. Vero? Ti vogliono bene. Quando io ti dico che abbiamo delle brutte persone dall'altra parte... Te l'ho detto, la gente non ci crede, pensano. Pensano, ah ma perché tu non fai... Perché non conto ogni... Cioè, non è che dici lo io, capisci? Il problema è questo. Guarda Anto, tra un minuto mi aggiungi quel formaggio grattugiato qua? Sì. Dove? Ah, dentro qua. Però lascialo ancora cuocere un minutino. Guarda come è diventata, rosa, ma è come una fucsia. È proprio come la pantera. Oggi siamo di cartoni. Senti, io prendo però un cucchiaio, non mi piace usare il cucchiaio di farlo sulla... Sì, sì, esatto. Prendi quello lì. Sai che io sono un po' fanatica... No, no, va bene, giusto, giusto. Non sciupare le pentole, le padelle perché, insomma, hanno un valore. È giusto, è giusto, è giusto. Poi è meglio comprarne una più buona, solida, che ti dura tanto, piuttosto che... Ma certo. Bisogna tenerle care. Intanto io faccio sto lavoro qua, molto velocemente, andiamo a sottigliare la sfoglia che poi andremo a mettere nel ripieno. Allora, Anto, facciamo una cosa. Lo specca, lo metto su? Sì, sposti questa. No, facciamo il contrario. Quella là, perché... Ok, vale. Aspetta, beh, ci vuole... Cioè, vedi che lì c'è il cerchio grande, culo grande. Eccolo qua. Culo grande, cerchio grande. Della padella, eh. Della padella. Non si può dire niente, ragazzi. Non si può dire niente ormai. Un goccino di olio. Ecco. Ecco qua. Questa la spegniamo. Perfetto. Ah, spegniamo quella lì? No, spengo questa. Ah, giusto. Quella là dovrebbe essere accesa. Accesa, sì, sì. Insomma. Come no? Sì. Sì, dai, vai. No. Sì, sì, va, va, va. Beh, se non va è già pronta. Mettici il formaggio, Le. Io posso dire una cosa. Mettici il formaggio a Le. Io capisco tutto, ma... Hai capito? Io sono dell'idea che preferisco sempre i fuochi. E basta. E basta. Ma vedete come va di mattarello il perse? Come si è? Eh. Ce l'ha incorporato. È nato in viglia romagna. Mi fa... No, vabbè. Però voi, scusate, però voi siete... Ci tendo a dire che un'idea in viglia romagna nasce con il mattarello. Ma io non lo saprò, ma... Vabbè, ma ragazzi, voi siete malati. Perché se lo dico io è così. Vabbè. Ok, sto zitta. Perché devo parlare del mattarello? Cosa mi viene in mente? Ma non parlo più di niente. Per sé, nel dubbio, la prossima volta con la nonna papera. Eh, guarda, sarebbe stato meglio oggi. E' stato meglio per tanti motivi. Ecco, meglio, maestro. Grazie, maestro. Allora. Facciamo così, vabbè. No, Gesù, Gesù. Ancora un attimo perché... Ho messo il formaggio grattugiato. Brava, brava. L'abbiamo regolato di sale. Nella pozione magica rosa l'ho messo. L'abbiamo regolato di sale di pepe. Intanto fa... Alziamo anche la pentola che le buttiamo giù, vabbè. Sì, la buttiamo lì giù. Oh, signor, che fatica. Non so se l'hai messo di sale di pepe, l'hai messo, no? Io l'ho messo di sale di pepe, poi c'è anche il formaggio grattugiato, quindi limitiamo un attimo. Ripetiamo, panna, scalogno, estratto di barbabietola e formaggio grattugiato. Esatto. Guarda, due briscole e è pronta, eh. Lo specchio è pronto, guarda, lo specchio. Guarda, 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 scusami. Quanto volevo dire? Cioè, poi voi siete sempre... Ma infatti l'avevo capito a tutti, eh. Non parlo più, io adesso sto zitta. Basta. Quando è così, prendiamo... Il sac à poche, facciamo dei mucchietti di ripieno, prendiamo la rotella. Quindi quella lì rosa è entrata nel sac à poche. Esatto, perché questa... No, quell'altra. Sì, questa qua, questa qua è ripieno. No, perché vedi, tra la rosa mi confondo, quella lì è la salsa rosa. Vi ricordate quando io ho messo la ricotta, i pezzi di barbabietola aromatizzati all'aceto di vino rosso? Esatto. Il formaggio grattugiato, poi cos'altro abbiamo messo? Il sale e il pepe. Ecco, adesso li abbiamo messi qui dentro. Li abbiamo messi qua dentro. Questa qua è praticamente il ripieno che si è anche raffreddato, perché qua la barbabietola era calda, quindi tende ad ammollare un attimino. Mi va via lo specchio. No, 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 va bene, va bene, guarda, che bello croccante. Vabbè che bello croccante. Butta le giù, Valanto, queste. Quindi intanto butto giù, intanto che lui fa le caramelle ve le faccio vedere. Esatto. Quindi facciamo dei mucchietti di ripieno, andiamo a togliere bene l'aria, mi raccomando, togliete bene l'aria così la pasta poi non si aprirà in cottura. Tagliamo la parte in eccesso, eccola qua, che questa facciamo dei quadrucci, delle tagliatelle. Facciamo vedere come si fa le caramelle. Ecco, dobbiamo stare un po' più aderenti al ripieno, quindi non fare tanto spazio dove c'è il ripieno, ma tenere invece quello laterale. Perché dobbiamo attorcigliarla. Perché dobbiamo prendere le mani, con la mano così fai il giro, e con la mano così fai il giro, e premiamo. Voilà, quindi giro e giro. Dallo stesso verso, Anto. Giro. Proprio con tutte e quattro le dita, così e così, e premi. Sempre allo stesso punto. Tirala un po', perfetto. Non è uguale? Più o meno, dai. Più o meno. Allora, cosa facciamo adesso? Non farmi, è solo piccicciò. Allora, prendiamo le nostre caramelle. Adesso voglio vedere come fa tutto l'insieme. Comunque è bellissimo, abbiamo cotto lo speck, abbiamo fatto questa salsina con la panna, lo ricordo, lo scalogno e l'estratto di barbabietta. Esatto, e il formaggio grattugiato. E il formaggio grattugiato. Spadelliamo bene le caramelle nello speck. Prendiamo la salsa e la mettiamo tutta sul fondo del piatto. Quindi questa va proprio sul fondo del piatto. Eccola qua. Guardate che colori, guardate che colori. Sopra andiamo a mettere. Capito? L'allegria viene anche dal colore, vestiamoci colorati, cuciniamo colorato. Le caramelle con lo speck, eccole qua. Mi voglio assaggiarne una. Te la lascio qua nella padella. Vai, Anto. Prendi. Devo appucciare anche un po' nella salsa. Ma deve far più vino, ma deve far più lo speck. Lo speck e la salsa. Ma la salsa è più paura di la salsa. No, non ti sporchi, c'è sul gremiule, tanto è ton sur ton, non succede niente. Anto! Perfetto. Anto, mi avevi promesso di assaggiare? È buonissimo. Ha un sapore un po' dolce. È certo. Anto! Eh! Mi avevi promesso una cosa. Vieni, vieni qua nella padella, vieni. No, Anto! Sei stato bravo però? Ecco qua. Grazie! Grande ricetta da Nero Persugani! Grazie! Caramelle! Cospecchera parola.